Chieri amici, oggi ho indossato una misa che ritengo appropriata. Al momento che stiamo vivendo, c'è scritto, I will finish what I start, porterò a termine quello che inizio. Allora, io sono profondamente deluso da Salvini. Mi vai ad aprire una crisi di governo ad agosto, con questo caldo e questa umidità che fa. Dico, ma stiamo proprio fuori di testa. Qualche minuto fa è uscita la delegazione del Partito Democratico che ha incontrato il Movimento 5 Stelle. Sembrerebbe che già ci sia qualche problema, ma il vero problema è un altro. Dice, andiamo a trattare con il PD. Sì, ma scusa, Di Maio, con quale PD vai a trattare? Perché, che io sappia, ce ne sono due o tre, forse anche quattro. E allora, con quale stai trattando di PD? Perché, vedi, poi tutti ripetono nella Lega, nel Movimento 5 Stelle, nel PD, massima coesione, siamo uniti, siamo una squadra. Però poi, sta squadra va in ritiro da qualche parte e arriva un capitano che dice guardate che è uscito uno spin che ha un nome e cognome Gentiloni, Paolo Gentiloni e dice che c'è il filmato, c'è il filmato, non è una chiacchiera. Io dico a tutti estrema cautela l'assassino verrà svelato al novantesimo minuto non vi spregate a fare come quel pollacchione lì, come si chiama? Lo so segnato qui da una parte raschia, raschia un pollastrone, no? Non fate come lui aspettate il novantesimo minuto e lì, come si chiama ? Chiama è il filmato è il filmato del filmato in